Dal carcere di Bancali di Sassari, dove è rinchiuso con l'accusa di omicidio plurimo aggravato da crudeltà, Angelo Frigeri, il presunto responsabile del triplice omicidio di Tempio, della morte di Giovanni Maria Zena, di sua moglie e del loro figlio 12enne Pietro, ha scelto di scrivere al quotidiano La Nuova Sardegna per dichiarare la sua innocenza. Non ho fatto e rilasciato nessuna dichiarazione, quindi non ho confessato, scrive in un foglio a quadretti a mano in stampatello. Frigeri parla anche di Pietro e lo definisce un bambino innocente che ha pagato le colpe del padre, una lettera che vuole essere uno sfogo nei confronti di chi in questi giorni, secondo lui, ha scritto soltanto cazzate. Il rimpianto che dico e che voi girate a vostro piacimento, si legge nella lettera, è che mi dispiace per l'accaduto, non perché sia stato io, ma perché sono morte tre persone, tra cui un bambino innocente. Frigeri parla quindi della presunta lite di cui è stato riportato nei giornali, tra lui e la famiglia Zena, e dell'eventuale uso di droga. Sono stato sottoposto a controlli, scrive, e non riporto nessun segno di collutazione e altri risultati sono nulli, come quello della droga. Non ne ho fatto mai uso, tantomeno quel fatidico giorno. Insomma, un modo per dichiararsi totalmente estraneo alla vicenda e sottolinea, ricordo che sono indagato e non omicida. Così aveva in un primo momento deciso di concludere la lettera, poi però deve averci riflettuto e cancellato probabilmente i saluti e la firma con un piccolo pasticcio, ha deciso di aggiungere un'ulteriore specificazione. La lettera si conclude infatti con un riferimento all'auto, la Golf, che secondo gli inquirenti sarebbe stata al centro di un litigio tra lui e Giulia, la moglie di Azena. La Golf non era stata venduta, scrive Frigeri, e perciò restituitemi senza nessun debito dovuto né da parte mia né della Zena. Parole ora al vaglio degli inquirenti, una versione dei fatti che si aggiunge a quelle già fornite, tra cui una formale confessione, come aveva spiegato il procuratore capo di Tempio Domenico Fiordalisi, a tre giorni dal ritrovamento dei cadaveri, avvenuto il 17 maggio scorso.